Carolina Saporiti, giornalista. Tanta felicità. Un sacco di felicità. No, solo quello. Tanta, tanta, tanta felicità. D'altronde sono una persona positiva, quindi la felicità arriverà. In un baleno, in un baleno, ne sono certa. E del resto, la felicità è dietro l'angolo. Anche quando non sembra e tutto ti rema contro, la felicità arriva. Grazie a tutti.